gentili telespettatori buona giornata vediamo una supermedia dei sondaggi agi utrend è la media di tutti i sondaggi degli ultimi 15 giorni ieri abbiamo visto tre sondaggi uno dava in vantaggio al pd uno dava in vantaggio la lega e uno dava in vantaggio fratelli d'italia questo sondaggio chi dà in vantaggio colpo di scena questa volta fratelli d'italia e lega sono assolutamente alla pari al 20 per cento entrambi il centrodestra è al 48,7 per cento coalizione che comprende lega fratelli d'italia e forza italia ed è quella che raccoglie il maggiore parte delle preferenze degli italiani mentre abbiamo un leggero calo il di 0,4 per cento il centro sinistra che al 26,2 con un calo dello 0,5 il movimento 5 stelle al 16,1 l'eu al 4,4 come dicevamo lega e fratelli italia al 20 per cento forza italia ha un aumento dello 0,1 ed è al 7,8 per cento come dicevamo il movimento 5 stelle passa dal 15 al 16,1 con un incremento dell'1,1 per cento mentre poi abbiamo vi ringrazio comunque per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata e vi ringrazio comunque per avermi ascoltato e vi ringrazio di giornata